E' andata bene oggi, ci stiamo riprendendo dall'Ungheria appunto. Certo ci sono stati degli errori definiti troppo, per esempio in attacco abbiamo perso molti palloni e dobbiamo forse ritrovare il giusto ulirio e spirito nella difesa. Però è stata una gara positiva e comunque è un buon allenamento anche per le partite fatture. Sì, sicuramente il livello è molto più alto, però mi sto adeguando e piano piano mi sto integrando più al livello.